Ucciso in Ucraina l'ex deputato del Parlamento russo Denis Varanyankov. Il Cremlino di nuovo nel mirino dei media mainstream. Giovedì 23 marzo l'ex deputato della Duma Denis Varanyankov è stato ucciso a colpi di pistola in pieno giorno all'entrata del Premier Palace Hotel a Kiev. Il politico russo, indagato in patria per appropriazione in debita di un edificio del valore dei 5 miliardi di dollari a Mosca, era fuggito in Ucraina lo scorso dicembre. Mosca aveva quindi spiccato un mandato d'arresto internazionale contro di lui. Ora, mentre politici occidentali ucraini come John McCain e Pitroporoshenko puntano il dito contro il Cremlino senza troppi giri di parole, i mass media internazionali ripropongono una tattica già utilizzata dopo la morte di Baris Nimtsov. In Italia, titoli come «Ucciso in un agguato l'ex deputato russo Varanyankov, nemico di Putin» e «Ucraina, ucciso politico russo anti-Putin» hanno l'obiettivo di persuadere il lettore che dietro all'assassinio di Varanyankov ci sia proprio il Cremlino, pur non avanzando alcuna accusa diretta. Fatto sta che venerdì il Ministero dell'Interno Ucraino ha rivelato che a uccidere Denis Varanyankov è stato Pavel Parshuv, un collaboratore della Guardia Nazionale dell'Ucraina, aggiungendo tuttavia, ma sempre senza uno straccio di prova, che si tratterebbe di una spia russa, introdotta all'interno dell'Unità Militare Ucraina nel 2015. In passato, lo stesso Varanyankov aveva più volte dichiarato di temere la morte per mano dei servizi speciali russi, a missioni che ne facevano una vittima sacrificale perfetta, del cui omicidio si sarebbe potuta accusare la Russia. Un mese fa, l'esperto militare Alexander Zilin, colpito dall'interesse dei media ucraini per la figura di Varanyankov in chiave antirussa, ne aveva previsto la tragica fine sotto forma di provocazione. Altri due morti in seguito all'attentato londinese di mercoledì. Leslie Rhodes, 75 anni londinese, e Kurt Cochran, un turista americano di 54 anni. Rese note anche le generalità dell'attentatore. Aveva 52 anni e si chiamava Khalid Massoud, ma il vero nome di battesimo era Adrian Russell, o Adrian Helms, come riporta l'Independent. Era nato nel Kent. Noto alla polizia per aggressioni e possesso di arma da fuoco, in carcere si convertì all'Islam. Utilizzava degli alias, nomi falsi, con cui era noto all'MI-5 per la vicinanza a figure estremiste. Viveva a Birmingham, ma conservava un accento londinese e spesso soggiornava fuori. Le testimonianze riguardanti la sua vita quotidiana sono contrastanti. Pare avesse vissuto fino a dicembre con una donna, che girava a viso scoperto, e tre o quattro figli nel quartiere di Winston Green di Birmingham. In dicembre si trasferirono all'improvviso. Si spacciava per insegnante d'inglese e passò la sua ultima notte in un hotel di Brighton. La ricevuta dell'albergo è stata trovata nella macchina. Intanto continuano i ride della polizia fra Londra, Birmingham e Galles. Arrestate sinora dieci persone e sequestrate i 2700 effetti personali, fra cui files estratti da computer. Nonostante l'attentato sia stato rivendicato dall'ISIS, l'organizzazione terroristica non ha ancora rilasciato alcun elemento a soffragio. Ieri il numero uno della vigilanza della Banca Centrale Europea, Daniel Nui, durante un'audizione alla Commissione Economica e Finanziaria del Parlamento Europeo, ha dichiarato a chiare lettere che non può essere esclusa la liquidazione di alcune banche europee, qualora non ci siano altre soluzioni praticabili per il loro salvataggio. Ovviamente l'alto dirigente non ha fatto alcun nome, ma ha sottolineato che al momento la Banca Centrale Europea sta lavorando sul salvataggio di tre banche, Monta dei Paschi, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Tutte e tre italiane, banco a dirlo. Facile immaginare che la soluzione per questi istituti non sia semplice, visto che ormai la loro crisi conclamata si trascina da mesi con la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Ministero del Tesoro Italiano, che non trovano una soluzione soddisfacente. Income tra le minacce l'applicazione del meccanismo europeo di stabilità, che oltre a costringere gli italiani a farsi carico del bailout, significherebbe il commissariamento di fatto dell'Italia da parte di un organismo non eletto da nessuno. La Banca Centrale Russa ha acquistato a febbraio 9,3 tonnellate di oro, 72 tonnellate in più da novembre scorso. La riserva aurea è stata aumentata anche durante la presidenza di Bush Union tra il 2007 e il 2008, ma ora tocca al picco massimo dalla caduta dell'Unione Sovietica, con un volume di acquisti in aumento vertiginoso dall'inizio della crisi ucraina. Un chiaro segnale che Putin non si fida molto degli Stati Uniti di Trump e che intende sbarazzarsi progressivamente del debito con l'America. Mosca ha venduto da 2014 60 miliardi di dollari di titoli americani, tenendone 86. Prima fra i maggiori creditori degli USA, oggi il Cremlino non rientra nemmeno fra i primi dieci. Secondo i maggiori economisti si tratta di una mossa strategica in previsione di un crollo della credibilità del dollaro e dettata dall'intenzione di rompere la superiorità economica di America ed Europa. A differenza di dollaro ed euro, l'oro è una moneta senza Stato. È la polizza assicurativa definitiva, afferma Alan Greenspan, ex della Federal Reserve. Mosca dunque segue la strada di Pechino, che con 1842 tonnellate, comprate anche in seguito alla vendita dei titoli americani, è la sesta riserva d'oro mondiale. Le cifre sono impressionanti, ma non costituiscono soltanto un'operazione russa. In realtà la Russia sta seguendo la stessa linea di tutte le banche centrali, le quali almeno da cinque anni stanno cercando la stessa assicurazione sulla vita, cioè acquistano oro. Segno evidente che il giudizio unanime negativo riguarda la stabilità di lunga prospettiva della moneta unica mondiale, cioè il dollaro. In Ucraina, un'intera città è stata evacuata in seguito all'esplosione del maggiore deposito d'armi del paese. Giovedì 23 marzo è scoppiato un incendio in un deposito di munizioni nei pressi di Balaklia, nella regione di Kharkiv. La detonazione dei proiettili d'artiglieria custoditi al suo interno ha ucciso una donna e ne ha ferito una seconda, mentre l'onda d'urto mandava in frantumi le finestre della stazione. Secondo il procuratore militare ucraino Anatoly Matyos, nel deposito della superficie di 368 ettari erano custodite 138.000 tonnellate di munizioni. Incendio ed esplosioni multiple sono continuati fino all'alba, mentre le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 20.000 abitanti dalla vicina città di Balaklia. Il Servizio di Sicurezza Ucraino ha annunciato l'apertura di un'indagine penale sull'accaduto. Avanzando ipotesi di sabotaggio, violazione delle norme di sicurezza e incendio doloso per coprire le prove di un eventuale traffico d'armi. Daesh agonizza in Siria. Il 22 e 23 marzo i terroristi hanno abbandonato Deir Hafir, ultima grande roccaforte di Daesh nella Siria settentrionale, mentre l'esercito siriano si apprestava a circondare la città. Ora la sconfitta dei terroristi in provincia di Aleppo può definirsi totale. Nel frattempo, mentre truppe kurde e forze speciali statunitensi sono sbarcate sulla riva destra delle Ufrate, a ovest di Raqqa, impedendo ai terroristi ma anche alle truppe siriane di raggiungere la città, i kurdi, in avanzata da est lungo le sponde del fiume, hanno lanciato un'offensiva sulla capitale di Daesh. Intanto, alcune migliaia di guerriglieri del cosiddetto esercito siriano libero e di Tahrir Hasham, precedentemente noto come fronte al Nusra, hanno lanciato un'offensiva congiunta contro le truppe siriane impegnate nella lotta a Daesh nella provincia di Hama. Dopo aver spezzato la difesa dell'esercito governativo, i guerriglieri sono avanzati all'interno della provincia per una quindicina di chilometri. L'offensiva è stata bloccata giovedì con l'arrivo di rinforzi da Deir Hafir. Ora, gli uomini di Assad sono passati al contrattacco, nel tentativo di ripristinare la situazione in essere prima dell'attacco dei guerriglieri.